Scattate quattro denunce per altrettante persone coinvolte nello smaltimento illegale di rifiuti e dirottami di auto usate in un'autocarrozzeria alle porte di Alfedena. Un'operazione congiunta tra la polizia ferroviaria e il corpo forestale dello Stato di Sulmona, che nell'ambito di alcune indagini atte a prevenire i reati contro la gestione illegale dei rifiuti, ha fatto scattare le denunce per i quattro soci. Si tratta di un trentenne, un 63enne e due uomini di 64 anni, residenti tutti a Sulmona. Sono accusati di attività di gestione dei rifiuti non autorizzati e raccolta e demolizione illecita di veicoli, che praticavano nella loro officina di Alfedena. Dietro questa auto officina c'è un terreno di 3.000 metri quadrati, dove sono stati rinvenuti rottami di auto usate vecchie. Inoltre, sempre nell'ambito dei controlli effettuati dagli uomini della Polfer, capitanati dal sostituto commissario Antonella Stringini e dagli agenti della forestale, guidati dal comandante e ispettore superiore Antonio Matangelo, anche cumuli di pneumatici che i soci non erano autorizzati a conservare in officina. Tutto il materiale è stato sequestrato.